ciao oggi nella nostra lezione di vita impareremo a respirare respirare è un'azione molto importante la controprova provate andare a sentire il respiro di un morto vedrete che è assente esperimento proviamo a non respirare non è possibile cosa è necessario per respirare il naso e la bocca come si fa a respirare immettere aria all'interno ed espellere aria all'esterno attenzione cercare sempre di alternare una ispirazione ad una espirazione cosa dobbiamo respirare possiamo respirare molte cose ad esempio sigarette sigarette giamaicane o sale fino la cosa migliore da respirare è l'aria se non riuscite andare in montagna potete accontentarvi di una bella boccata di aria fresca di frigo per oggi è tutto non dimenticatevi di respirare ci vediamo con un'altra importantissima lezione che sarà svegliarsi